Si interrompe un attimo Niente, non c'è sta Allora, riuscite a sentirmi tutti? No C'è un sospetto con il virus Che significa che siccome siamo in troppi E fermi un secondo, se non sentivo Aspetta un attimo Un secondo, grazie C'è un sospetto coronavirus Siccome siete in troppi per andare tutti in un presidio Non si può fare il tampone Sono 14 giorni di isolamento volontario in casa Chi ha bambini o chi convive con qualcuno È meglio se trova una soluzione In cui chi convive, il bambino o quant'altro Esce fuori da casa 14 giorni per incubare Dopodiché potrebbe manifestarci una sintomatologia Va avvisato il medico di base Se nel giro di due settimane Iniziato a sviluppare tosse Febbre O qualsiasi altra cosa A livello polmonare Avvisate il medico di base Che si rindirizza sul giro di emergenza Chiaro per tutti? Non si possono fare tampone con tutti E i contatti che abbiamo avuto Fino a conoscere i salini Da questo momento Io considero lo spazio Ma noi siamo stati vivi Con il colettino Lui ha sviluppato sintomi adesso È teoricamente contagioso Nei due giorni precedenti Due o tre giorni precedenti Stava a casa Stava a casa Quindi per me Questo è l'inizio Della settimana Sampato domenica Sampato domenica Sampato non c'era Non c'era Sampato domenica No è già nel colettino Chi non è stato in contatto con lui Oggi Dovrebbe essere escluso Dal Tranquilli Ciao A te